Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, è ovviamente dedicata all'emergenza sanitaria coronavirus. In apertura vi riproponiamo alcuni passaggi fondamentali della conferenza stampa che avete potuto seguire proprio su TV6 da parte del governatore della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, in diretta dall'Aquila, 5 milioni di euro alle famiglie, 6 milioni ai professionisti e piccole e medie imprese. Questi sono i provvedimenti deliberati dall'Aggiunta regionale per dare esecuzione alla legge quadro cura Abruzzo. Noi riascoltiamo i passaggi fondamentali della conferenza stampa di Marsiglio nel servizio firmato per noi da Andrea Costantini. A pochi giorni dall'approvazione della legge quadro cura Abruzzo, la Giunta regionale dà attuazione ad alcune delle misure previste ed ha approvato con delibera i primi provvedimenti. 5 milioni di euro sono destinati alle famiglie, quelle messe in ginocchio dall'emergenza Covid e che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Dall'inizio della prossima settimana sul sito della regione sarà disponibile il modulo telematico da riempire. Non ci sarà il cosiddetto click day ed è inutile cavallarsi il primo giorno. Le domande saranno selezionate e divise per categorie di priorità. Famiglie che per partecipare a questo bando non dovranno produrre nessuna documentazione. Faranno una autocertificazione nella quale ci rivolgiamo alle famiglie che sui conti correnti del proprio nucleo familiare sommati non arrivino ad avere una liquidità superiore a 2 mila euro, incrementabile di mille per ogni figlio, quindi per ogni terzo, dal terzo componente in poi del nucleo familiare e fino a un massimo per le famiglie che hanno più di 3 persone a carico, quindi 3 figli o più o più di 3 persone a carico tra altri soggetti, fino a un massimo di 5 mila euro di disponibilità sul conto. Noi ci rivolgiamo a quelle famiglie che rischiano di non arrivare alla fine del mese e di non avere una minima disponibilità liquida per poter affrontare le spese necessarie che sono quelle per le quali è rivolta questo fondo. Misure anche per professionisti e piccole e medie imprese. 6 milioni di euro a disposizione con domande fatte a Sportello. È rivolta alle micro e piccole imprese e ai lavoratori autofobi, cioè a tutta quella parte che del mondo del lavoro sente maggiormente la crisi direttamente. Dà la possibilità di rimborsare il 40% delle spese di investimento fino a un massimo di 5 mila euro. Questa ha una logica che è proprio quella di stimolare degli investimenti di riconversione, investimenti di riconversione con acquisto di macchine, tecnologie che può essere utile a fare questo tipo di attività con una forma che è, come dicevo prima, fino a un massimo di 5 mila euro e il 40% dell'investimento totale fatto. La Giunta regionale prova così a dare risposte lì dove il governo non è ancora riuscito e dallo Stato il Presidente Marsiglio attende un altro segnale per poter liberare altre risorse. Io segnalo di aver chiesto, mi sembrava una proposta molto ragionevole, di sospendere per tre anni il piano di rientro dal disavanzio amministrativo. Questo emendamento presentato al Decreto 18, agganciandolo a un emendamento del governo che interveniva parzialmente sulla stessa voce, è stato respinto. Io spero che questa bocciatura sia solo una bocciatura temporanea, perché questa norma da sola ci libererebbe altri 24 milioni anno per tre anni da mettere nella fornace dell'economia regionale. Poi un accenno al fronte sanitario. Stiamo aumentando la capacità di fare tamponi e diagnosi, dice Marsiglio. La curva di aumento del contagio è in flessione e le misure di distanziamento sociale sono state importanti. Negli ultimi giorni abbiamo avuto numeri confortanti rispetto al numero dei contagi, rispetto alla curva. Possiamo ben dire oggi che se la curva dei contagi avesse imboccato la curva peggiore di quella che c'era stata pronosticata nei modelli matematici, oggi avremmo avuto più del doppio dei malati in Abruzzo e quindi più del doppio delle persone in terapia intensiva, negli ospedali. Il Vescovo della Diocesi di Teramoatri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, invia un messaggio pasquale a tutti i fedeli teramani. Siate forti, vivete una nuova Pasqua e riscoprite la carità. Intanto la curia si organizza e annuncia che tutte le celebrazioni della Settimana Santa saranno trasmesse su web e televisioni. Tania Bonnici Castelli Questa battaglia al Covid-19 esige un ulteriore doloroso sacrificio che non riguarda il corpo, ma l'anima. Il non poter partecipare alle celebrazioni della Settimana Santa getta nello sconforto molti fedeli ed è fortissimo il rimpianto di non assistere, per esempio oggi, alla processione del Cristo morto a Teramo, un evento ripetuto da secoli. La curia teramana però ha attivato i suoi canali social e web per rendere accessibili messe, rosari e momenti di preghiera. Il Vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, con serenità invita tutti a vivere una Pasqua nuova e a riscoprire il valore più grande che è la carità. Una Pasqua decisamente in solitudine, molto triste per i fedeli. Però la curia di Teramo si è organizzata per essere presente nella casa di tutti i teramani. Sì, io sono molto contento di ciò che l'Ufficio per le Comunicazioni Sessali ha realizzato e devo dire che sono certo che da questa esperienza, vissuta in questa novità comunicativa, io sono certo che sarà una grande esperienza per dare una maggiore testimonianza, un maggiore impegno di missionarietà. Mi sono permesso di ricordare e di proporre a tutti i fedeli della nostra diocesi di vivere questa Settimana Santa come se fosse la prima volta, perché il grande pericolo, l'ho ripetuto anche lì sera durante la messa in Senato Domini, è che anche i bellissimi riti pasquali della Settimana Santa possono restare i primi di quella valenza personale, comunitaria, che oggi diventa invece sempre più decisiva, soprattutto in riferimento all'esperienza della pandemia. Ma non solo, c'è una richiesta da parte dell'umanità di comprendere e di capire qual è il vero significato della risurrezione di Cristo dopo e della Pasqua. Eccellenza, qual è il messaggio pasquale definitivo che vuole mandare ai suoi fedeli a tutta la diocesi? Ecco, il messaggio che ho preparato per tutta la diocesi è molto semplice ma anche molto impegnativo. Il risorto ci invita ad allargare gli orizzonti della carità. È un messaggio, ripeto, è semplice ma molto impegnativo, perché noi dobbiamo superare l'idea che la presenza del risorto e dunque della Chiesa si riduca soltanto all'obbedienza a un semplice comandamento etico, che è certamente importante, ma la presenza del risorto nella storia invita e sollecita i cristiani, tutti i battezzati che nella veglia pasquale rinnoveranno le promesse battesimali, a prendere consapevolezza che sono chiamati ad animare tutta la società con quello spirito caritativo che permetta loro di offrire indicazioni, soluzioni, prospettive per poter costruire una società migliore. Grazie dalla redazione di TV6, un grande augurio e una buona Pasqua. Grazie eccellenza. Grazie a tutti. 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 Villa Celiera dove vedo Paolo Renzetti a cui do il buon pomeriggio sotto un bellissimo sole che accompagna queste giornate, Paolo per raccontarci una storia, quella di Villa Celiera molto particolare, zona, un paese, diciamo limitrofo alla zona rossa ma senza contagi. Esattamente, esattamente Jacopo buongiorno, un saluto ai nostri telespettatori, è detto bene, questa è un'isola felice dell'alta area vestina perché è confinante con comuni che sono in zona rossa ma a Villa Celiera non ci sono positivi al coronavirus e questa è davvero la notizia che rappresenta oggi, che vogliamo rappresentare, di cui vogliamo parlare con il primo cittadino. di Villa Celiera, Domenico Vespa. Buongiorno Sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito, allora la possiamo definire isola felice a Villa Celiera, insomma siete circondati da comuni dove c'è la zona rossa e noi abbiamo anche toccato con mano questo perché siamo stati fermati giustamente dai carabinieri qualche chilometro fa, qui invece a Villa Celiera non ci sono positivi da questo punto di vista e questa è una bella notizia. Sì, hai detto benissimo, ci troviamo a Villa Celiera, siamo nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, noi come ha detto bene il giornalista ci troviamo al confine di tre zone rosse che sono i tre comuni confinanti proprio territorialmente con Villa Celiera, Farindola, Montebello Civitella e Casanova, ma a ridosso di questa prima zona rossa c'è una seconda zona rossa che è quella di Penne, che Penne è per noi il centro di maggiore interesse, il centro dell'Abrioni dove i nostri cittadini si recono giornalmente, dove sono le scuole superiori e dove i professionisti hanno i loro studi professionali. Quindi noi siamo rimasti un po' un'isola felice da una parte, dall'altra forse zona nera perché risentiamo un po' delle restrizioni imposte dalle zone rosse. Un po' proprio vero che la storia, gli eventi ciclici si ripetono, è accaduto come forse quello che hanno vissuto i nostri antenati, quando per loro il pericolo maggiore arrivava dalla costa, arrivava dalle vallate sottostante, quindi l'unica zona sicura era la nostra montagna e anche oggi le uniche vie d'accesso sono i sentieri della transumanza che ci riportano nella vallata dell'Aquilano, i comuni di Castel del Monte, Campo Imperatore e quindi resta veramente l'unica zona rossa, l'unica zona sicura. Io volevo sottolineare un particolare che come ha ribadito si giorni soprattutto il dottor Albani, responsabile primario del 118 di Pescara, che nelle emergenze da soli non si è nessuno. Ebbene io penso che questo risultato vada soprattutto condiviso con i nostri concittadini, con i nostri cittadini che sono stati veramente non bravi, ma hanno dimostrato veramente un grande senso di maturità, un senso di responsabilità. Dicevo proprio prima al giornalista, noi le nostre attività commerciali hanno abbassato le serrande, addirittura prima dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo è veramente un grande segno di maturità, ma forse l'hanno fatto perché volevano veramente, vogliono e c'è voglia e entusiasmo di ripartire e di ritornare ad essere Villa Celiera che è sempre stata, soprattutto Villa Celiera degli ultimi anni. Sindaco, questa è la patria degli arrosticini, ci sono tanti locali, ci sono tante aziende che producono arrosticini e come diceva lei oggi è tutto chiuso, state risentendo pesantemente di queste chiusure a livello economico perché la vostra comunità vive soprattutto di questo. Sì, noi la rosticino è il nostro prodotto d'eccellenza, forse che ci ha resi famose non soltanto in Abruzzo ma in tutto il mondo, ma abbiamo altri prodotti eccellenze come la molinara che si può degustare nei nostri ristoranti tipici, abbiamo le patate rosse di Villa Celiera che stiamo riscoprendo, stanno riacquistando veramente una notorietà sempre più inaspettata, però attualmente sono tutti fermi, soprattutto il problema delle persone che lavorano nelle aziende, in queste macellerie dove vengono prodotte arrosticini sono diverse, basti pensare che la maggior parte del reddito prodotto proprio proviene o dai laboratori di arrosticini o addirittura dai ristoranti che preparano gli arrosticini. Però, ripeto, siamo rigorosi, ci atteniamo alle regole, come amministrazione comunale noi siamo stati ugualmente lungimiranti, ci siamo preoccupati di procedere a delle disinfestazioni periodiche, abbiamo soprattutto rintrodotto metodi che in passati più usati oggi scomparsi, come i nostri consiglieri che vanno in giro per le contrade con l'altoparlante ad invitare i cittadini a rimanere dentro casa e poi devo sottolineare la presenza e soprattutto la guida che ci è stata data dal dottor Cretarola, il nostro medico di famiglia, componente del centro operativo comunale, sempre a disposizione, soprattutto sempre attento alle problematiche di tutti i cittadini, ma soprattutto anche lui è stato l'inginerante perché già da un po' di tempo, all'inizio emergenza, quando ancora veramente nessuno si rendeva conto della portata di questa emergenza, già prescriveva ai nostri cittadini abbondanti dosi di vitamina D che sembrano veramente molto efficienti nel combattere questa epidemia. Allora Sindaco, parliamo anche di una curiosità, anche per uscire un po' dall'ambito di questa emergenza sanitaria, Domenico Vespa è primo cittadino di Villa Celiera e parente, lo dice il cognome, della famiglia di Bruno Vespa. Come è questa parentela? Bruno Vespa viene spesso a Villa Celiera, possiamo ogni tanto? Non è venuto, non è mai venuto, eravamo il figlio, stavamo proprio organizzando una giornata dedicata sia a lui che al figlio per la presentazione del libro di Federico, che purtroppo abbiamo dovuto adesso rimandare, ma sicuramente faremo a breve. Bruno Vespa, perché siamo della stessa famiglia, siamo di origine aquilana, mio nonno, originario di Calascio, passava a Villa Celiera attraverso le viete Transumanza per andare al sud con i greggi e quindi conobbe mia nonna e si fermò a Villa Celiera. Jacopo, il Sindaco ci ascolta, se vuoi fare qualche domanda, qualche curiosità, prima di restituire la linea, siamo qui. Sì, avevo solo una curiosità, nel senso che Villa Celiera è un centro piccolo e immagino che l'età media sia abbastanza elevata e questo è un fattore di rischio. Ecco, come vive questi giorni in cui di casi non se ne riscontrano il Sindaco? C'è sempre timore che possa uscire il primo caso. Ecco, come la si vive in relazione al fatto proprio di un'età anagrafica che immagino, io adesso non la conosco, però immagino sia abbastanza elevata dei cittadini di Villa Celiera? Certamente, allora chiede il collega Jacopo Forcella da studio, come state vivendo questa emergenza? Perché immaginiamo l'età media della popolazione di Villa Celiera è un'età media piuttosto alta, cioè c'è comunque la massima attenzione perché c'è sempre il rischio di avere il primo positivo? Soprattutto non sarebbe nemmeno il primo, l'uno o due, considerato che una popolazione prevalentemente anziana riverterebbe veramente a rischio tutto il paese. La gente risponde bene, è ancora paziente, noi l'unico problema che abbiamo vissuto, soprattutto con l'inserimento e l'introduzione delle nuove zone rosse, all'inizio si sono verificate delle incomprensioni per i cittadini nostri che dovevano uscire per recarsi nei propri luoghi di lavoro, però grazie alla collaborazione delle forze dell'ordine, della stazione Carabinieri di Civitella Casanova, il maresciallo sempre disponibile, ma la stessa compagnia con il capitano De Rosa e soprattutto, consentitemelo di fare, voglio veramente fare un elogio e un encomio all'eccellentissimo prefetto che ha dimostrato una sensibilità per i piccoli comuni, per i sindaci incredibile, quindi grazie a lei che ci dà veramente la forza di affrontare anche un'emergenza così impegnativa e così grave. Per chiudere sindaco, prima di restituire la linea allo studio... Un'ultima considerazione da parte mia, volevo sapere, visto che comunque un comune come vediamo dell'entroterra neanche facilissimo da raggiungere, ecco l'approvvigionamento di mascherine, dei dispositivi di protezione che oramai sono entrati un po' nello slang del nostro parlare quotidiano, com'è se è soddisfatto il sindaco e... Com'è la situazione? Certo, allora si parla ovviamente dell'approvvigionamento, oltre che dei generi di prima necessità, anche e soprattutto dei dispositivi di protezione, mascherine e quant'altro, avete avuto delle difficoltà considerando che siamo nell'entroterra della provincia di Pescara, lontani da Pescara ma anche dai centri più grandi, c'è stato questo problema soprattutto nei primi giorni o tutto è filato liscio? No, 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 tutto è filato lì, abbastanza bene e noi abbiamo ricevuto dal Dipartimento della protezione civile già alcuni rifornimenti di mascherine che poi una parte le abbiamo acquistate come comune con un piccolo sacrificio, certo non è che possiamo disporre dei grandi risorse, però abbiamo provveduto ad acquistarle, le abbiamo grazie poi alla protezione civile, ai ragazzi della protezione civile della Pivec, soprattutto ai ragazzi di Villa Celiera che sono veramente presentissimi, non fanno mancare la loro vicinanza a nessuna famiglia, quindi sono a disposizione per le consegne dei beni alimentari, per i dispositivi di sicurezza, veramente per tutto. Io credo che i nostri cittadini possano essere veramente orgogliosi di appartenere a questa comunità ma felici di stare a Villa Celiera. E Sindaco, per chiudere, a proposito di orgoglio, l'obiettivo, lo possiamo dire, insomma, di arrivare il più presto possibile alla fine di questa emergenza senza alcun positivo nel centro di Villa Celiera. Ma noi auguriamo veramente buona sorte, non soltanto al nostro comune, ma soprattutto ai comuni vicini, ai quali va la nostra solidarietà, la solidarietà di tutta la cittadinanza, ma a tutta l'Italia. Quindi io penso che possiamo concludere in questo modo, quindi viva Villa Celiera, viva l'Abruzzo, ma viva tutta l'Italia e credo che veramente ce la faremo. E io con queste parole, ovviamente non possiamo che sottoscrivere del primo cittadino di Villa Celiera, Domenico Vespa. Possiamo chiudere qui il collegamento in diretta con il piccolo centro dell'Alta Area Vestina in provincia di Pescara. Grazie ancora Sindaco per l'ospitalità, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica da Villa Celiera. La linea può tornare allo studio. Te Jacopo. Grazie, grazie Paolo. Grazie ovviamente al primo cittadino di Villa Celiera. Insomma è un caso un po' particolare. Speriamo che la situazione di zero contagi a Villa Celiera permanga almeno fino alla fine dell'emergenza e sia così fino al termine. Torniamo al telegiornale. Adesso si moltiplicano gli appelli da parte degli amministratori locali per invitare i propri concittadini a restare a casa anche e soprattutto nell'imminente periodo pasquale. Singolare e all'insegna dell'ironia quello del sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, che così si è espresso sui social. Beh, De Luca, il governatore De Luca manda i carabinieri con il lanciafiamme, si stanno diffondendo i video più scherzosi in rete riguardo a questo o a quell'intervento dei singoli governatori e dei singoli sindaci. Io non posso far altro che mandarvi il nostro comandante della Polizia Municipale, Fabio Torrese, munito di mazza da baseball, visto che lui è un bel giocatore di baseball, quindi andrà in giro con la sua mazza da baseball, mi raccomando. Ovviamente sto scherzando, ma una cosa sulla quale non scherzo è che sia nel giorno di Pasqua, sia nel giorno di Pasquetta, noi istituiremo dei controlli in maniera ferrea. Ci saranno vigili urbani, ci sarà la Capitaneria di Porto, ci saranno i carabinieri, ci sarà la finanza, ci sarà la polizia, ci sarò anche io stesso con qualche uomo della protezione civile e con i volontari della protezione civile a controllare l'evolversi della situazione sul territorio, perché le norme già ci sono, non potete uscire di casa, non possiamo uscire di casa e chi lo fa senza giustificato motivo viene assoggettato a sanzioni, quindi ben 300 Euro di multa per una semplice passeggiata. E ricordatevi che a Pasqua e Pasquetta i controlli saranno assolutamente fermi e ferrei, così siete tutti avvisati, nessuno può pensare di andare a fare la passeggiata lungo il mare perché è finita l'emergenza, perché l'emergenza non è affatto finita. È per il bene vostro che sto dicendo queste cose, per il bene mio, per il bene di tutta la comunità e dobbiamo fare quest'ultimo sforzo, anche per Pasqua dobbiamo rimanere a casa, per Pasquetta ancora di più. Se dovesse essere una bella giornata come questa saremo lì a controllare, saremo lì a reprimere eventuali violazioni, lo dobbiamo a noi e lo dobbiamo alla nostra comunità. Chiarissimo il sindaco di Francavilla al mare Antonio Luciani, numeri da record per la polizia locale di Silvi che in un mese di intenso pattugliamento delle strade ha effettuato oltre 6 mila controlli tra veicoli e pedoni, elevando ben 37 sanzioni amministrative a chi circolava senza un valido motivo. Sono questi i numeri prodotti dagli agenti della polizia locale proprio di Silvi, un massivo servizio di controllo della circolazione dislocato su tutto il territorio comunale. Ed è proprio nel corso di un controllo effettuato nella giornata di ieri che gli agenti della polizia locale hanno intercettato una persona intenta ad entrare nel territorio del comune di Silvi con oltre 50 grammi di marijuana. Nel corso dell'operazione sono poi arrivati sul posto i militari della locale stazione dei Carabinieri che hanno provveduto a denunciare la persona a piede libero, un già imponente servizio di controllo, quello messo in atto dagli agenti della polizia locale che a breve, in vista delle festività pasquali, aumenterà grazie anche all'utilizzo dei droni. E come già noto, l'Istituto Superiore di Sanità ha interdetto la raccolta differenziata dei rifiuti ai covid positivi e mentre i ballenatori chiedono di poter ripulire le spiagge, ecco cosa è cambiato in Abruzzo nella gestione dei rifiuti. Giuseppe Dintino. I covid positivi non possono fare la raccolta differenziata, è quanto dispone l'Istituto Superiore di Sanità per limitare il rischio contagio. I positivi in isolamento domiciliare sono la maggior parte di coloro che hanno contratto il virus e per loro vi sono apposite disposizioni di smaltimento dei rifiuti. Si è disposto la dismissione della raccolta differenziata e la concentrazione di tutti i rifiuti domestici da parte di queste utenze covid positive, ripeto a domicilio, che devono a questo punto immettere tutti i loro rifiuti in un doppio sacco e classificarli rifiuti urbani indifferenziati. In sostanza smettono di fare la raccolta differenziata, tutto ciò che producono diventa rifiuto urbano indifferenziato e noi siamo stati la prima regione a fare questo modello di servizio dedicato. Il problema infatti è che non c'è una posizione univoca da parte degli scienziati su quanto i rifiuti possano rappresentare un rischio. È noto che il virus può sopravvivere sulle superfici anche per alcuni giorni, seppur con una carica virale molto bassa e quindi materiali riciclati e riutilizzati potenzialmente potrebbero essere una fonte di contagio. L'Istituto Superiore della Sanità ha detto che tutto ciò che viene prodotto da un'utenza domiciliare in quarantena positivo al covid smettono di fare la raccolta differenziata e mettono tutto nel bidone o nel doppio sacco, come ne dicevo prima io, come rifiuto urbano indifferenziato. Quindi è stata una misura precauzionale. Polemiche sono state sollevate a proposito della pulizia delle spiagge. Alcuni giorni fa i balneatori hanno alzato la voce chiedendo di poter accedere alla spiaggia e rimuovere i rifiuti portati dal mare. Marsilio ha quindi predisposto un'ordinanza ma ora dovrà aggiungere il nulla osta del governo nazionale, l'unico che può allentare le maglie e delle restrizioni imposte. Per parte di competenza del servizio di gestione dei rifiuti abbiamo dato subito il parere favorevole per la rimozione di questi rifiuti. L'ordinanza è stata predisposta, ho avuto poi notizia ieri da parte del mio direttore di dipartimento che il Presidente si ha sentito con il Ministro della Sanità per valutare questa iniziativa e sembra che il Ministro abbia detto che uscirà dopo Pasqua, periodo entro cui è scattata questa prima restrizione delle attività produttive, si deciderà anche su queste attività di carattere turistico balneare. Ad ogni modo il settore dei rifiuti è uno di quelli considerato strategico, i netturbini dall'inizio dell'emergenza non hanno saltato un giorno di lavoro e sono quindi tra le categorie a rischio. Abbiamo imposto ai gestori dei servizi un potenziamento di tutti i DPI, cioè i dispositivi di protezione individuali, per cui tutti gli operatori sono stati poi muniti di mascherine, di guanti in monouso, di tutte specifiche. Siamo ancora nella fase di picco di questa epidemia, si continuano a registrare contagi ma perlomeno diminuisce il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. Anche l'isolamento domiciliare però può rappresentare dei rischi, ecco quali. La fase di picco dell'epidemia non è ancora superata. Secondo i dati della regione in Abruzzo continua ad aumentare il numero dei contagi ma diminuisce quello dei pazienti ospedalizzati. Significa che sempre più persone covid positive sono in isolamento domiciliare, sotto sorveglianza attiva da parte delle ASL. I positivi accertati a casa ieri erano 1.203. Questo è un dato interessante perché queste persone dovrebbero essere curate in casa, dovrebbero essere eseguite in casa, prima di tutto dall'assistenza e poi perché creano un rischio contagio familiare. Per non intasare gli ospedali, infatti, la scelta dei medici è quella di far rimanere a casa i pazienti meno gravi. Bisogna considerare però che questa malattia tende a peggiorare velocemente e il rischio è anche quello di focolai all'interno delle singole unità familiari, perché in casa non è sempre facile attuare tutti i comportamenti di precauzione. Questo dipende dalle condizioni anche economiche e abitative delle persone. Abbiamo persone che vivono in appartamenti molto grandi, che possono dedicare una stanza e un bagno alla persona positiva e che quindi dovrebbe essere isolata. Persone che riescono a mettere magari in protezione le persone fragili, quindi gli anziani della loro famiglia rispetto a questi positivi e persone che invece vivono in condizioni un pochino diverse. Un modo per limitare i rischi in famiglia può essere quello di isolare in albergo i positivi che non necessitano di ricovero ospedaliero, così come già sperimentato in altre regioni. Bisogna vedere se è possibile mantenere questo isolamento e mettere in protezione le persone fragili, oppure se è necessario utilizzare delle strutture alternative. La Emilia Romagna da quello che so sta utilizzando gli alberghi che presentano anche il vantaggio di avvicinare alcuni tipi di pazienti magari a dei centri più grandi con degli ospedali, quindi facilitano anche forse il lavoro ai medici e rendono più sicura la condizione di isolamento domiciliare. è senz'altro più facile visitare i pazienti tutti assieme piuttosto che fare il giro dei paesi nelle aree magari montane o nelle aree appunto meno abitate di questa regione. L'emergenza coronavirus quindi porta alla luce una delle contraddizioni in seno alla nostra società, quella della diseguaglianza sociale. Seppure tutti siamo in quarantena infatti vedi certo molta differenza tra lo stare rinchiusi in una villa piuttosto che in un monolocale. La quarantena non è uguale per tutti, è certamente molto più, intanto è più dura per chi vive negli appartamenti piccoli, per chi magari non ha a disposizione un po' di verde, un po' di come dire, no, la possibilità un pochino di muoversi e questo già lo vediamo da adesso negli effetti anche psicologici purtroppo della quarantena. Prima di chiudere una notizia, certamente da parte delle forze dell'ordine sono in corso a Pescara su quanto accaduto ieri per l'ultimo saluto a Mimmo Grosso, storico leader della marineria del capoluogo adriatico morto in ospedale con il covid-19 anche a causa di patologie e pregresse. Dal servizio funebre all'assembramento che si è creato sulla banchina del porto sembra che vi siano state riscontrate diverse violazioni dei decreti del premier Conte finalizzati a contrastare la diffusione del coronavirus. Gli investigatori stanno ora identificando i presenti che dovrebbero essere sanzionati in base a quanto previsto dal DPCM. Dall'ospedale la Salma ha effettuato un passaggio davanti alla sua abitazione, poi sul molo sud e su quello nord dove era ormeggiata l'imbarcazione di Grosso. E' proprio nel piazzale del molo nord che si è creato l'assembramento. Gli operatori della marineria hanno fatto risuonare le sirene dei pescherecci e poi si sono stretti attorno ai familiari del loro leader. Di Cine le persone presenti, diversi anche gli esponenti del mondo politico, seppur a distanza e per pochi istanti c'erano tra gli altri il sindaco di Pescara Carlo Masci, il consigliere regionale Guerino Test, ex presidente della provincia e il presidente del Sib Conf Commercio Riccardo Padovano. A tal proposito sono arrivate le parole proprio del sindaco di Pescara Carlo Masci che ha detto non ho potuto né voluto sottrarmi all'obbligo e al dovere di un gesto di pietà cristiana al passaggio del feretro di un concittadino strappato all'affetto dei cari dalla pandemia di coronavirus. Non esistono pertanto casi né polemiche da alimentare strumentalmente. Il sindaco ha sottolineato che non ci sono state deroghe ai DPCM, ho incrociato per strada il carro funebre con le spoglie di Mimmo Grosso mentre mi recavo in comune per l'assise civica sul lungo fiume nord all'altezza di via Puccini, mi sono fermato in tempo, il tempo di segnarmi con la croce per poi immediatamente proseguire verso il municipio ed effettuare il previsto collegamento online del Consiglio Comunale durante il quale si sono ascoltate attraverso le finestre aperte le sirene delle imbarcazioni per il saluto all'esponente della marineria. E con queste parole chiudiamo la prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand su YouTube, sul nostro sito web www.tv6.it e anche su tutti i nostri canali social. Prossimo aggiornamento con il telegiornale alle ore 19, per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.